Si respira area di partitissima in Alto Molise. Al Cividella infatti è attesa la Maceratese, capolista imbattuta del torneo nella giornata che chiude l'anno solare. La sconfitta giunta in Estremis sette giorni fa in quel di Matelica ha lasciato l'amaro in bocca ma anche la consapevolezza che ormai le buone prestazioni non bastano più, occorre far punti. E il calendario in questo senso non aiuta i Granata. La Maceratese infatti è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento per Ricamato e Soci. Passando al campo, mister Donatella ha lavorato molto sia sulla difesa sia sui movimenti d'attacco da contrapporre alla miglior difesa del girone. In un Cividella che si preannuncia esaurito all'Olimpia agnonese dovrebbe schierarsi col 4-4-2 classico. In porta ci sarà Biasella, linea difensiva composta da Mares, Calitero, Lattarullo e Natalini. Centrocampo con Ricamato, Dilullo, Paiuca e Rolli. In avanti la coppia Saltalin e Cantoro. Stanley Ibe è a disposizione e parte dalla panchina. Passiamo alla Maceratese. I bianco-rossa allenati da Giuseppe Maggi sono primi in classifica con 35 punti frutto di 10 vittorie e 5 pareggi con 30 reti fatte e soltanto 9 reti al passivo. Vengono dal netto successo interno per 3-1 nel big match contro la San Benedettese e giocano con il 4-3-3 dove i punti di forza sono il centrocampista dal gol facile Belkaid e il trend offensivo da Antoni Couco Ferrimarini. Partita quindi proibitiva per Ricamato e Soci ma finire l'anno in maniera positiva strappando punti alla capolista sarebbe un'iniezione di fiducia in vista di un 2015 che dovrà portare alla salvezza. L'appuntamento è fissato dai 14.30 di domani. A dirige Olimpia agnonese e maceratese è stato disegnato il signor Luigi Carella di Bari, coadjuvato dagli assistenti di linea Francesco Pallini, Alberico Galluccio entrambi di Avellino.